Alle mani da re dovrebbe portare un anello. È lui, è la sua scorta! Io vorrei abitare nel suo cervello. Dimmi che è vero. È vero. Ecco, tanto impiegano le mie aziende per fatturare 2 milioni di euro. Non le ha cedute per il conflitto di interessi? E il mio ruolo politico? Tornerò al governo. 12 miei compagni di classe dicono che devi andare in carcere. Quanti siete in classe? 30. Beh, i conti tornerò. Tu ma sai che cosa devi riconoscere? A me magari un giorno te lo presenti. Ma lui, lui! Lui, lui! Sei il più grande venditore che abbia mai conosciuto nella mia vita? Vendi il sogno del futuro. E faremo una festa pazzesca! Ricorda che questa villa è residenza di Stato. Ci mancherebbe altro. Giuro di essere fedele alla Repubblica. Di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi. E di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Ma te che cosa ti aspettavi? Di poter essere l'uomo più ricco del paese? Fare il premier? E che anche tutti ti amassero alla follia? Sì. Io mi aspettavo proprio questo.